1397 nuovi contagiati, 10 decessi con circa 93.000 tamponi processati, aumentano di 11 unità le terapie intensive, dati quelli di oggi che confermano un trend ormai consolidato. Negli ultimi giorni, con tamponi record, la curva, stando ai dati forniti dalla Fondazione Gimbe, ha ripreso la propria salita e questa volta non più a macchia di leopardo. Più 37,9% se si guarda la settimana trascorsa e più 62% ricoverati in terapia intensiva, con la campagna che fa registrare un preoccupante più 90%, più 65% in Lombardia, dove il Covid ha colpito anche i berlusconi. Dopo Silvio e figli Barbara e Luigi, anche la fidanzata dell'ex premier, Marta Fascina, è risultata positiva ai test. Una catena che avrebbe la propria origine a Capri, dove Barbara avrebbe contratto il virus. Le condizioni dell'intera famiglia non destano preoccupazioni. Focolai si registrano a Trento, in un'azienda che lavora carne, a Dorgosolo, nel Nuoregno, a Taormina, dove sono coinvolti solo giovani, e in una residenza per anziani in provincia di Taranto. Testa a tappeto proseguono intanto nei principali aeroporti italiani, con un occhio di riguardo per chi proviene dai paesi considerati ad alto rischio. Una corsa contro il tempo per evitare la diffusione del virus, quando ormai l'autunno non è più così lontano. Da oggi intanto i parenti degli operatori sanitari, deciduti a causa del Covid, possono presentare le domande per accedere al fondo istituito dalla Protezione Civile e dalla Famiglia della Valle.